Provenzano! Le pagate? Le pagate prima, vero? Le pagate a tutti quanti! Ragazzi, innanzitutto Provenzano DJ ed io vogliamo ringraziare il Falscrapi DJ che sono qui presenti a 24.000 baci e per tutti coloro che vogliono iscriversi ricordate Provenzano DJ.com Allora, innanzitutto un commento, voglio fare un commento perché questa è, non mi ricordo che numero è, delle volte che veniamo qui e stiamo qui tra di voi Prova il microfono, mi sentite là dietro? Là dietro, mi sentite? Dicono di sì